Proseguono le indagini della procura sulla frana di Cannobbio, nella quale lo scorso 18 marzo perse la vita Roberto Ripamonti, 68 anni, motociclista di Bellinzona, travolto da uno dei massi precipitati dal versante. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile che conducono le indagini della stazione di Cannobbio hanno notificato ai sindaci, ai segretari comunali, ai geometri comunali di Cannobbio, Cannero Riviera, Ogebbio e Ghiffa la richiesta di acquisire tutta la documentazione dal 2014 a marzo 2017 che riguarda gli interventi di messa in sicurezza di pulizia della vegetazione, della manutenzione dei versanti, del taglio di alberi radici anche sui terreni privati. Richiesti anche tutti i documenti che riguardano il monitoraggio del rischio idrogeologico. Al momento un procura è aperto come atto dovuto, dal momento che c'è stata una vittima, un fascicolo affidato al sostituto procuratore Sveva De Liguoro per omicidio colposo contro i gnoti. La procura intende innanzitutto stabilire se ci siano responsabilità nell'accaduto e se la frana avrebbe potuto essere evitata. Grazie a un sistema di GPS sono stati identificati i proprietari del terreno sul versante dal quale si è staccata la frana. Si tratta di una famiglia di Milano.